Grazie, per voi adesso presenteranno una porca che sia Piemontese o Ligure, come prima battuta Roberta e Cinzia, Massimo e Mariangela e Fabrizio e Romina in pista, seconda battuta Octavia Anna, Tiziana e Carola e a finire Filippo e Madillo, grazie. Grazie, grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.